Lanci di pietre contro l'ambasciata del Bangladesh in Sri Lanka durante la manifestazione organizzata da circa 500 monaci buddhisti. Una protesta contro gli attacchi e la distruzione di case e templi in Bangladesh nel fine settimana ad opera di migliaia di musulmani dopo la pubblicazione dell'immagine di un rogo del Corano su Facebook da parte di un presunto buddista.